Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Sulla Fibili code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per la tramvia stasera in orario 21, mezzanotte e 30 le fermate della linea T1, Fortezza e Valfonda non saranno servite. In questo tratto il trasporto sarà garantito dai bus sostitutivi. Si ricorda che oggi è in atto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico. Info e aggiornamenti sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!